Torna allo Sturno Sport Festival e lo fa con una veste tutta nuova e colma di grandi novità. La terza edizione si svolgerà come quella dello scorso anno nella suggestiva location del campo sportivo Il Castagneto in una festa di sport e cultura che alleterà quattro giorni centrali di agosto. 11, 12, 13 e 14 sono le date da segnare sul calendario. Gli organizzatori hanno in mente di superare lo straordinario successo incassato lo scorso anno, boom di presenze e attenzione altissima a causa Covid ed ospiti di caratura internazionale, insomma una ricetta vincente che rende lo Sturno Sport Festival uno degli appuntamenti centrale dell'estate irpina. Anche quest'anno non mancheranno i grandi campioni dello sport ma ci sarà spazio anche per la cultura e l'enogastronomia. La promessa attraverso la colorata locandina di quest'anno è chiara, se non vieni non ci credi. Il programma è ancora top secret anche perché è in continua evoluzione con una certezza, nessuno resterà deluso. Gli elementi per il successo ci sono tutti, presto sarà diffuso il calendario e il conto alla rovescia potrà finalmente partire.